Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Dario Tonari, noto Bandini, che mi chiede di parlare del film del 2022, di Mark Middle, che fece l'unico film, questo Milo, con The Big White, che non era nemmeno male un po' alla Cohen, e il film che mi chiedono di parlare appunto è del 2022 ed è The Menu, con un grandissimo Ralph Fiennes e una splendida Anna Taylor-Joy. È un film molto particolare, nel quale non avevo sentito nulla, che ho messo nel meglio nel 2022, che andai al cinema a vedere con poca idea, pensando che fosse il classico thrillerino del cazzo, invece mi sono trovato di fronte a un film molto sottovalutato, sia dalla critica italiana che quella dall'estero, chiaramente, nella storia appunto di queste persone che vanno a mangiare da questo mega chef, dove costa tutto in maniera incredibile, e che insomma è il grande Ralph Fiennes, che userà appunto questa scena per fare qualcosa di terrificante, che stavrà a voi scoprire. Una delle ospite, appunto, Anna Taylor-Joy, che non è assolutamente ricca, ma è stata portata lì, diciamo, per scambio, per il risbaglio, in un certo senso, da questo fissato con la cucina, appunto, che porterà poi scompiglio sempre di più in questo ambiente, appunto, che diventerà sempre un ambiente fatto più di violenza e morte, proprio per quello che, insomma, il nostro regista vuol tirar fuori, grazie anche a un personaggio incredibile, ho detto come quello, del cuoco interpretato da Ralph Fiennes. Per un film che sotto, diciamo così, un po' di patina hollywoodiana, in realtà racconta con forza un qualcosa che è stato già raccontato, come nei film grandissimi come La Grande Abbuffato, un film di Manuel, perché qui il grottesco e il surreale veramente vola altissimo. Un film assolutamente non capito, non capito tutti, dicono che è un film qualunquista, qualcuno ha detto che è un film che non si meritava più di tanto, la prima parte era meglio e poi la butta in cacciara col cazzo. La seconda parte è la perfetta conclusione dell'inizio della prima, un mondo che mangia se stesso, un'idea, appunto, della fine di un qualcosa che diventa assolutamente indecifrabile, anche come il cibo, che acquista, diciamo così, sempre più forza, anche monetaria, grazie esclusivamente a chi gliela vuole dare, alla propria, diciamo così, unicità, in un certo senso. E in questo film si botta contro a tutto e tutti, la scena che non vuole mettere il pane è geniale, tutta la parte appunto dei vari tavoli, i vari personaggi sono stilizzati benissimo e poi quando parte con gli omicidi e con i suicidi anche, il film diventa sempre più interessante proprio perché la parte thriller è veramente ansiosa e mette in tensione per quasi tutta la sua durata. Per un film che svela, svela oltre all'inganno appunto di un certo tipo di cucina fatta pagare 6.000 volte, svela l'inganno di un certo tipo di consumismo, svela l'inganno appunto di un certo tipo di cibo che viene esaltato esclusivamente a volte solo per cercare di esaltare qualcosa e venderlo un'altra volta, senza mai considerare la bontà magari del cibo, del cibo classico in un certo senso, ma è splendido come quando arrivano le tortiglie a scondentro tutti i malemagagni che ognuno ha fatto e incomincia a capire perché probabilmente il nostro ha invitato determinate persone. Poi è un film che non si fa mancare lo splatter, teste che scoppiano, pistolettate, dita mozzate, violenza che non è mai gratuita ma che è sempre inserita appunto in un contesto dove la violenza sembra farla da padrone, ovvero il nostro mondo. Senza contare che poi piano piano quando Anna Terogio e prenderà forza il suo personaggio si scoprirà che non è stata invitata lì, allora il rapporto con Ralph Files cambia ed il gioco a due diventa sempre più interessante, sempre più forte, così come i rapporti con gli altri commensali che avranno veramente pane per gli odio d'erti, nel modo di dire perché il pane non glielo vuole dare, ma insomma inizieranno veramente a fare conti con cosa sono e che cosa hanno fatto nella loro vita. In definitiva quindi un film politico, sociale assolutamente, che vuole attaccare questa specie di idea di fascio consumismo totale verso il cibo e che lo attacca attraverso appunto personaggi che vengono svelati lentamente, come detto al tavolino, attori falliti, attori invece non ancora falliti, grandi ricconi, borghesi, super elevati, aristocratici, tutto questa fauna che si trova appunto intorno a questi tavoli in realtà è colpevole di essere sempre presente appunto nella distruzione del mondo anche per il nostro Ralph Files. E ripeto, la nostra invece è Anna Taylor Joy, è l'unica che è capitata lì per caso e che non fa parte di questa cerchia di grandissimi ricconi del mondo, è l'unica che ripeto, che riesce a vedere il mondo veramente com'è, è l'unica che riuscirà forse a convincere Ralph Files, quindi per me è un film assolutamente da non perdere, cercatelo e guardatelo perché se non mi merita veramente il link è qua sotto, tenete sul patto, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il puzzante super grazie per donare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a Giro per l'Italia, e l'ora di Dio, questo De Menù è un film che in molti hanno massacrato anche in Italia dicendo che era carino, trailerino, bellino, ma che poi era troppo qualunquista, fossero tutti così i film qualunquisti, e se io sarei di mortone felice, e sarei anche di mortone felice se qualche critico ogni tanto riuscisse ad andare un po' più avanti della propria ombra e cercasse anche di comprendere il perché il film vuole lanciare certi messaggi e come lo fa, perché lo fa in maniera secondo me ottimale, pur non essendo assolutamente un grande film, ma è un film che merita di essere guardato.